Oggi è un nuovo giorno qui all'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro perché da oggi è iniziato il nuovo mandato del nuovo preside di questo istituto. È Riccardo Rossini, ex dirigente scolastico del liceo, scientifico Marconi, che da oggi inizia la sua nuova avventura. Lascio una grande scuola, il Marconi, una grande famiglia per entrare in un'altra grande famiglia, in un'altra grande e altrettanto prestigiosa scuola che è l'Istituto Cecchi Agrario di Pesaro. Una scuola bellissima, un'azienda agraria di oltre 20 ettari di terra con oliveti, vigneti, cantina, olificio, cioè di tutto di più praticamente. Quindi ci divertiremo. E lei ha scelto questa scuola, aveva carta bianca tra virgolette quando è finito il suo mandato, ha scelto proprio questa scuola per quale motivo? Perché dopo il Marconi, indubbiamente, per me doveva essere una scelta naturale. Lo doveva essere perché ho sempre avuto la passione per l'agricoltura. Ritengo che questa sia una grande scuola che abbia una potenzialità incredibile anche dal punto di vista della ricerca, quindi della tecnologia, dal punto di vista didattico. Quindi ho sentito quasi l'esigenza di venire a provare questa esperienza. Ecco, lei ha già fatto un tour della scuola, immagino tante cose positive, ma cosa c'è anche magari da migliorare? Beh, ovviamente le strutture. Chiaramente alcune sono vetuste, devono essere riprese, ma c'è un impegno importante della provincia, c'è l'amministrazione provinciale, sono stati stanziati molti fondi dal PNRR. Di conseguenza credo che nei prossimi anni, ma direi proprio dai prossimi mesi, metteremo in mano a molte cose che hanno bisogno di un restauro. Una struttura comunque però, al di fuori di tutto, di tutte le accortezze che magari devono essere apportate, davvero straordinaria. Unica del suo genere, ovviamente. Credo che sia, se non il più bello, uno dei più belli istituti agrari d'Italia. Progetti che hai in mente magari per l'Istituto Cecchi, anche in linea magari con quelli che aveva avviato quello scientifico? Beh, adesso innanzitutto mi confronterò con i miei docenti, i miei nuovi docenti. Vediamo, certamente qualcosa bolle in pentola. Credo, molta attività di ricerca però. Ecco, nuovo anno alle porte, nuovo anno scolastico, diverso anche magari dagli ultimi due anni. Novità, anche magari anche in base alle norme vigenti che cadranno in base al Covid, però comunque bisogna stare sempre attenti. Dunque, la curva epidemiologica in questo momento non è fonte di preoccupazione. Abbiamo il 95% del personale scolastico vaccinato, abbiamo il 70-80% degli studenti, abbiamo tantissime persone che si sono ammalate durante l'estate e quindi immunizzate. Il Ministero ha emanato una sorta di vademecum che servirà a contenere l'epidemia qualora dovesse in qualche modo riesplodere. E quali sono le procedure le solite? Disinfezione, areazione, distanza fra gli studenti, le solite cose. Ultimo problema, ma non per importanza, anzi sicuramente uno di quelli più importanti attuali è quello del rincaro delle bollette, dell'energia, del gas. La scuola in qualche modo viene colpita, verrà colpita nei prossimi mesi. Quali potranno essere le accortezze che potrà avere la scuola in generale? Sicuramente una settimana corta, ad esempio, quindi attività didattica concentrata in cinque giorni, o, ma ormai non facciamo più in tempo, un anticipo dell'anno scolastico, magari di una settimana, per poi eventualmente allungare le vacanze di Natale nel periodo più freddo. Questo comporterebbe sicuramente un risparmio notevole. La DAD è uno strumento utilissimo, che non va demonizzato, utile ad esempio per coloro che non possono seguire in presenza i lungodegenti, coloro che hanno una certificazione medica che li tiene lontano dalla scuola per diversi giorni. Questi possono seguire in videoconferenza le attività della scuola. Ora, la DAD massiva, diciamo così, credo che non si presenterà più.